Mi dovete dire come mi si sente con questo microphone, poiché l'ho acquistato. Ma l'hai già preso? Sì. Ah, hai fatto bene. Quindi quando giochi sarà altissimo. No, ma c'è... Sono pazzi? Danni? Ma tu l'hai visto fare questa cosa? Sì. Con due manfrotti? Ehm... oddio, cazzo, credo di sì. Dovete scaricarvi il livello e dopo vi darà la possibilità di giocare. Quindi io faccio continua. Perché non è intuitiva questa cosa? Scarica. Oddio, dovevamo farlo prima, gatto. Ma perché è una merda sta cosa qui? No, ma l'ha scaricato e partito. Puoi salvare i livelli creati da altri selezionati nel manbot. Ok. Ok. Ah, fai, scaricati. Eccolo qua. Tu magari lo puoi selezionare. Dove va? Dove va? No, vabbè. Guarda che è una malattia questa, eh. Non l'ho neanche toccato. Scarica e puoi dirgli dove metterlo. Nello slot. Ma va in ordine cronologico. Ma che è sta merdata, scusami? Si può giocare in due? Se io faccio giocare si può giocare in due o devo solo quelli che ho downloadato? No, solo con i download. Ma perché questa cosa? E perché non me ne fai scaricare dieci in una volta? Ma perché invece di aprirti una... Devo scaricare... Un'intera finestra di statistiche di uno non ti fa una lista con scritto scarica, 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 scarica. Se lo seleziono. Soppa. Eccolo qua. Non è intuitivo, non è niente. Allora, io sono Mario. Sì. Ok. Ma c'è la fisica dei corpi? Non mi spingere, cretino. E devo andare. Ho capito, aspetta. Devo andare, regattolo. Allora c'è un coglione, guarda. Ma stava a correre in avanti. Ho capito, lo stavo facendo. Ah, ma aspetta. Allora sei scemo. Eh, ho capito, ma è difficilissimo. Salvami. No. Salva. Che cazzo. Ma dai, ma ti sono saltato in testa e sono morto. Aspetta che ti salvo adesso. Dai, dai, qui, 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 qui. Aspetta. Pigliami, pigliami. Oh, stava saltando. Via, 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 aspetta. Aspetta, aspetta. Ma è fatta di corsa questa. Ma è tua sorella, ma è fatta di corsa. Come si fa? Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ok, ok, a posto, a posto, a posto. Porca puttana. Bellissimo, mi sta piacendo un sacco comunque. Eh, ho capito. Se for... Permesso. Si salta. Ma aspetta, amico. Si corre. Si salta. Ma tu devi fare in fretta. C'è scritto corsa. Ho capito. Arrivo. Arrivo. Eccomi qua. Eccomi qua. Aspetta che mi salti in testa. Ah, un fungo a testa. Sono a testa. Ma a me non l'ha dato. Oddio. E allora sei uno stronzo. Eh, ho capito. Dove sono? No. No, dobbiamo rifare tutto? Eh, sì. Allora, calma. Allora, metti tu. Poi. Aspetta. Salvami e ti ammazzo. Ti salvo io. Ti ammazzo. Vai giù. Bestia, ma perché ti fai fatto saltare? Vai mettiti quel quadratino. Aspetta, aspetta. Ma no, sei un deficiente. Ma perché hai saltato? Ma perché hai saltato? Scusami. Non volevo. Hai fatto tutto tu. Fermo lì che arrivo io. Fermo lì. Chi si muove? Bravo. Vai. Ok. Aspetta, aspetta che faccia il giro prima. Vieni via. Ma l'avevo fatto. Basta qua. Correre. Vai che basta correre. Corri. Oh mio Dio. Ok, andata. Vai. No, aspetta che ce l'esplugnare. Torca. No. Ecco perché te li fa scaricare perché ci passi due ore. Basta uno per una life. Dov'è andata? Sif? No, forse si è sbagliato davanti alla porta. No, no. Perca troia. T'aspetto, tranquillo tu. Tranquillo. C'è pieno di fili. Veramente in mezzo ai cavi. Ah, ah. Cazzo, se non ci fosse il frame. Eh, cazzo. Toh, fanculo. No, lo dobbiamo uccidere. Come facciamo ad ucciderlo? Devi farlo cadere nel fuoco? Ma no, ma l'ho spostato tutto. Aspetta. Come si fa? Non ho idea. Devi saltargli sopra adesso. Ecco adesso. Dopo che ha fatto la culata. Sì, vabbè, ma è ingiocabile. Dai, fai la culata, bastardo. Fai la culata. Cazzo, quant'è roba che si è. Eccolo. Ok, vai, vai. No, no, no. Sono morto. No, no, no. Occhio, eh. Occhio. Eh, no. C'ha quella... Ma se io faccio così? Yes. No. No, cazzo. Eh, vabbè, ho capito. No, e allora. Eh, sì. È difficile, Sif. Spostati, spostati. Eh, non riesco a spostarmi. Ok, te... Eh, ma fa culo. Aspetta, ti prego. Sarà una lunga serata. In realtà potremmo fare questo tutte e tre le sere, va benissimo. Bicchia, veramente. Tanto per questo livello, tra l'altro. Sì. Perché dopo un po' ti distrai e inizia a usare Mario anche quando non devi. Eccolo. Guardalo. Poi. Allora, aspetta. C'è la palla di fuoco. Ma porca puttana. Lo stavo anche dicendo. Lo stavo anche dicendo. Eh, sei proprio un rompicazzo, eh, Sif. Adesso ho visto Bama, sì. Cattoputana, aspetta. Però salmarti lì? Qua. Grande. No, salmati in testa, salmati in testa. Grande. Arrivo. Gatto! Salmami! Sif! No! Non importa. Non importa, grande. Sif! Yes! Yes! Sif, fai rotto il cazzo. Apri la porta, apri la porta. Ho sputato tutto. Dove sono io? Non risponi. Sono qui. Ok, c'è la meccanica della sconata in questo. Attenzione, sì. Dai, piglia. Ok, comunque... L'ho preso? No, non l'hai preso. Dov'è il mio? No, ma come? Come? Era una trappola. Ma doveva ricominciarlo? Sì? Permesso. No, ma si è strunzato. Gatto, no, gatto, una palla di fuoco. Spostati da lì. No, no. Guarda, non ti faccio spawnare così. No, dai, che fai? Ho messo colpito io. Ma sei morto? Che cretino, guarda. Piano piano. Allora, aspetta, aspetta. Tu prendi quello di destra. Sì. Aspetta, sì, perché poi è ricolosissimo qua. L'ho preso. E perché ti fa quel frame di attesa? Attento. Ma come facciamo? Adesso è già partito quello sotto. No, non me lo dire. Torna indietro. No, arriva. Vieni. Arriva. Eh, sono d'accordo, sono d'accordo, sì. No. Eh, no. Eh, no. Eh, no, no. Gatto. Quante sono? Vieni via, vieni via. Eh, sì, bisogna raccogliere. Eh, yes. Corri e abbassati. Sì. Andiamo così. Aspetta. Caro lui, caro. Eh, ah, uh, che cazzo. Ma sei stato zitto fino adesso? Vabbè? Seduto. No, bastardo. Porca vacca, vedi? Bastardo, merda. Rush, rush, rush. No, non è così, non mi spingi, regà. Tu fermo lì. C'era le vulnerabilità. C'era. Vai, corri avanti che sei invulnerabile. Corri. Aspettami, aspettami. No. Ma non c'era il fuoco prima, che altro non c'era. Corri. No, sto correndo. Che c'è il rincoglionito, questo qui, quello che vibra. Vai, ce l'abbiamo fatta. Non adesso. Come te lo devo dire? Non adesso. No, è difficile perché in due. Perché siamo in due. Perché siamo in due. Il fiore. Sì. No. Mamma mia, è subito così? E tu, sì, quante gente c'è. Vado via, ciao. Tanto ero passato. È la chiara di no. Non si può fare. Non si può fare. No, dovevo farlo una alla volta. Ma non si può colpire Bowser. Corri, corri subito. Corri subito. Corri subito. Corri subito. Corri subito. Non posso io. Non posso io. Io vai. Spamma, spamma, spamma. Spamma, spaccagli il culo. Spamma. Ma c'è un altro. C'è un altro. Spamma. Spamma. No, gatto, no. C'è un altro di fuoco. Ma è vulnerabile Baby Bowser. Sto saltando tutto. Ma che cazzo, che cazzo. Dai, dai. Vallo a prendere. Vallo a prendere. Ma, ma, ma. Occio. Ma, dietro. Non riesco a capire niente. Sono finito, sono finito. Sei tornato indietro, gatto. No. Ma si può. Si può questa cosa qui. Ma non è che si resetta la vita. Ma certo. No, come i boss. No, lascialo prendere a me. Ho capito. Ma dai. Ma non lì, non lì. Ridammelo, ridammelo. Prendilo, prendilo. No. Oh, no. Guarda. No. No. Ma non riesco. Gatto, non devi andare lì. Non devi andare lì. Però siamo tutti e due bellissimi. Uccidiamo prima il nano. Uccidi il nano, prima. Hai detto niente. Che tantica, bravo. Lo attiriamo. Sei tu, sei tu, gatto. Non so stile. Uccidilo, uccidilo. Oh, oh. Eh, va bene. Va bene, non importa. Orca puttana. No, dai, mi ha colpito. Aspetta. Spostati. È morto. È morto. È morto. Noi per sicurezza. Ma sì, ma che cazzo. Che sta succedendo in questa live? Vieni via. Non importa. Vieni via. Entro io, entro io. Permesso. Devo andare via. Abbassati, abbassati. Non possiamo. Torno indietro. No. No, 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 no. Non lo dico. Non lo dico. Adesso sei nano, però. Saltami sopra, cazzo. Saltami sopra. Vai. Sì, la madonna. No, vado. Fammi andare me. Fai andare me. Prego. Levati. Ah, vanno su. Giù, vanno su. Giù. Salvami. Aspetta. Merdo, ho vinto. Ah, no, hai fatto, hai vinto. Ho vinto. Hai vinto. Yes. 27 minuti sopra. Perché sono spawnati? Scusami. Se ne porti... Uccidiamo di nuovo. Bonus. È che in due è il problema. Eh, beh, sì. No, ma in realtà anche questi controlli sono un po' un problema. No, eh, sì. L'analogico è un aiuto. Grazie a Melman. Tanti auguri alle... Aspetta. Che fantasma è il coroio. E io? Siamo morti? Andata? E cosa dobbiamo fare, scusa? No. Dobbiamo attirare la talpa a destra e a sinistra. Ah, sì, sì. Dai, dai, dai. Benissimo. Che panzata. No. Che è successo? Come non segnale? No, ha staccato la corrente. Siamo in live ancora? Siamo in live? No, aspetta. Ma si è spento solo il monitor qui. Sif, ma che cazzo. Sif, ma che cazzo. E poi, adesso di nuovo? Ok. Avevo vinto? Sì. È una merda questo livello qua. Eh, avevo... No, più che altro... Un minuto. Questo non l'ho proprio capito, cioè... Dovrebbe essere auto, ma mi sa che non va. Ah, dico. No, non è vero. Ha auto switch in quel senso! No! Ciao. Devo correrti vicino. Vai. Vai, vai. Corca troia. Camminiamo. È una run, ne ho capito. Sono scemo per essere Mario. Il frame. Ti porti da una sfida aggiuntiva a questa roba qua? Porca puttana, mi ha spinto un giumale. Cicale, 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 cicale. È nelle tue mani. No, io no! No, non ho il patolino! Che fastidio che mi ha bloccato per un attimo. Ciao, così, vuole di... Ti pizzico le guance, così. Così, così, pizzico. Perca puttana! Perca puttana! Corri, corri, gatto! Salta! No, salta! Era giusto! Era giusto! Mi salvavi anche! Mi serviva più rincorsa perché non ce la facciano. Non servirà che fare nient'altro. Lui può proprio saltare in avanti. Dove vai? No, no, no! Guardalo, guardalo! Oh, mio! Corri, deve sì! E qua? E vanno giù, vanno giù, vanno giù! E chi ci pensava? Vanno giù come niente! Era da saltare? Guardalo! Yes! No! Sì! Dai che mi ha fatto lasciare! Salvami! Salvami! Non posso! Sì, salvami! Mi fatemi salvare! Vabbè, vabbè, vai tranquillo. E qua? No! Non so, pensavo si passasse. Anch'io! Troppo poco rispetto alla media e niente auguri. Guarda! Grandissimo! Dove? Non bisogna andare giù! Non si può andare giù? Così? Come si fa? Non lo so. Vai, tu vai, tu vai. Ecco, adesso bisogna trovare indietro. Che puttana c'ero. Te lo aspettavo. No! Oh, no, gatto! Vabbè, vai, vai. Volo! Vai col cuore. Ciao! Come? No, sbatti, sbatti, devi sbattere, se no non passi. Prendi me quando vai giù. No, no, prendi me quando vai giù. E no, è che non torni giù. E allora aspetta prima di andare, aspetta. Aspetta, aspetta! No, e non ho potuto! Devi prendere la moneta. Non ho potuto prendere la moneta. Io pensavo che le monete cambiassero. Ma no, c'è qualcosa sopra. Ci sono i tombi che cadono quando passi. E quindi quando sbagli fin... Vedi? Dai, vai! Porca sultana! Dai, non riesco a saltare! È veramente... Lei è terribile questa cosa. No! Cazzo! Cazzo! No, questi! Dove sono? Chi ero? Questo non è da fare in due. Ma va? Questi qua... Però noi lo faremo perché siamo campioni di Super Mario. Noi siamo bravissimi. Guarda che roba! Guarda che professionista! Poi scarichiamo quelli difficili. Guarda che professionista! Ma questi sono normali? Ah, sì, mi ricordo. Quelli che meritano sono quelli. E scusami, però prima ha funzionato questa tatticona. Ma non ti devi avvicinare però. Dove vado? No, ma sei uno stronzo! Potevi morire? Pensavo se morisse in automatico. Corri. Per cazzo! Perché se tu arrivi troppo veloce! Ucciditi! No, beh come ti uccido! No, me l'hai riattivato! Ecco, sono morto! E io... Ci può... Guarda qui! Pam, 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 pim, pam! Pantapim e pantapun! Certo! No, no! Puoi aspettare un secondo, tiè? Che la risolviamo! Ok, a posto, tranquillo! Eh, vaffanculo! Guarda che professionisti! Pom, pim, pom, pim! Poi pom, pim! No, no, no! Ma abbiamo 60 secondi! Non possiamo neanche stare troppo, gatto! Vai, vai, vai! Tu dove sei? Vai! Dove sei? Vai, 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 vai! No, gatto! Aspetta, vado! Porca puttana! Ogni tanto non riesco proprio a... Sei vivo? Vai! Eh, ma non è inutile! Aspetta! Prova a premere la... Mamma mia! Corri, qui, corri! Poi salti! Non importa, vai, vai tu! Corri, salti! Tu hai salvato! No! Ma hai salvato, però! Salta così! No! E adesso? Ma devi aspettare! Hai il premio di visibilità! Vai, vai, vai! Aspetta, aspettate! No, aspettate! Spostati, spostati! Ma si fa, dici? Così! Così! No! Era lì! Gatto, è lì! No! Non sono qui! Non sono qui! Vai! Vai! Aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta! Oh! Vai, 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 vai! Sì! Yes! E io volo via! Non vinco mai! Io ho sempre più! Vai! Ok! Vengono! 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 Ah, è finito! No! Dai, non ci credo! Ti ho bloccato a metà! Teng? Playing! And... Questo è l'inglese dei giapponesi Guardalo! Professionista! 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 Sì, ma che cazzo! Bravi tutti! Bravi noi! Scusa, ma io dove ho entrato? In un bunker? Buona serata!